Reia è un grandissimo allenatore, ha fatto tanto per l'Atalanta e spero che continui a farlo anche il prossimo anno, poi saranno scelti dalla società e su questo non voglio entrare in questo discorso. Questo è il mio secondo anno da titolare in Serie A, so che devo ancora crescere molto, devo fare ancora parecchie esperienze, ho ancora per fortuna ampi margini di miglioramento, quindi penso di essere maturo per una piazza più importante, però io adesso sono qui, voglio giocare questi giorni e non penso sicuramente al calciomercato, è quello che verrà. Non credo di costare troppo perché comunque le società italiane hanno scelto i soldi per i portieri stranieri, li spendono, ma forse perché non ci si rende conto che in Italia ci sia appunto un'ottima scuola dei portieri, e il motivo adesso non glielo so dire, però comunque lo stesso Milan ha avuto il coraggio di buttare nella mischia donna Roma solo di 16 anni, quindi io credo che questo sia un bel messaggio.